Allora, ciao a tutti, bentornati in live. Vi ricordo qui parliamo di lavoro, carriera, finanza personale, tutto quello che ci aiuta a migliorare il mindset professionale. Iniziamo subito con la domanda di Gianluca, qual è il momento giusto per cambiare azienda? Allora, cambiare azienda dovete vederlo come un passo per la vostra carriera, per cui il momento giusto dipende letteralmente da voi, da quella che è la vostra traiettoria di carriera, da quelle che sono le vostre ispirazioni, da quello che volete ottenere su una delle diverse dimensioni su cui si deve lavorare quando si prepara una strategia di carriera. Si può trattare di qualcosa relativa alla parte economica, alla parte attività o ruolo che fate relativo a dei cambiamenti per la famiglia o per la propria vita personale. Come sapete io faccio consulenza per il miglioramento della carriera e una delle attività principali che segue è proprio il sostenere qualcuno, aiutarli nel percorso per cambiare lavoro. E la parte più importante, se vogliamo, quasi la più difficile sotto alcuni aspetti, è proprio la parte di analisi a monte. Quindi Gianluca, il discorso del capire quando cambiare è a valle di due o tre domande prima. La prima è qual è la mia situazione oggi, sotto vari aspetti, le mie aspirazioni e perché dovrei cambiare, no? Facciamoci anche delle domande un po' challenging. Perché dovrei cambiare? Tipicamente perché mi aspetto che in una delle 3-4 dimensioni che mi analizzano, il cambiamento mi porta a un miglioramento, quindi un avvicinamento rispetto al mio target. Poi ricordiamoci che si può cambiare lavoro senza cambiare azienda. Io dico sempre che uno dei, uno tra i tanti vantaggi delle grandi aziende è il fatto che si possono fare più carriere, si possono avere diverse esperienze anche spostandosi da una divisione all'altra all'interno della stessa azienda, che è un vantaggio non banale. Quindi sicuramente il punto è cambiare azienda quando ha senso nella vostra traiettoria di carriera e quindi secondo la strategia di carriera che avete definito per seguire quella traiettoria. Se parliamo a livello di tempistiche ci sono un paio di numeri magici, diciamo, più che altro considerati un attimo standard. Alcune persone hanno una carriera molto stabile, molto statica sotto alcuni o molto stabile sotto altri punti di vista, quindi persone che stanno veramente 10, 15, anche 20 anni in un'azienda, magari anche cambiando ruoli all'interno per quel discorso che diciamo prima. Altri come me che soprattutto all'inizio della mia carriera ho cambiato azienda o perlomeno ruolo mediamente ogni due anni. Cosa bisogna fare riferimento? A cosa bisogna fare attenzione? Ovviamente quando ci si sposta e ci si candida per un'altra posizione, la prima cosa che faranno è vedere nel vostro curriculum, sul vostro più più LinkedIn, qual è la vostra esperienza di carriera. E allora se vedo che ogni tre mesi hai cambiato azienda, a meno che non ci sia stato un motivo specifico, tipo vado in un'azienda e poi lì, porca miseria, c'è una situazione di restructuring e tutto, allora ovviamente può essere un buon motivo per cambiare e anche velocemente. Però per non diventare un collezionista di Franco Bolli anche lato esperienza lavorativa bisogna considerare questo, che tipicamente ci vogliono sei mesi veramente per capire il ruolo, anche se uno è operativo dopo poche settimane, però veramente per capire come funziona l'azienda, le dinamiche a destra e sinistra, come ci si sposta, come gira il fumo direbbero alcuni, ma a me non piace come espressione più che altro, veramente come funziona l'organismo azienda in cui stiamo portando il nostro contributo, tipicamente questo richiede almeno sei mesi. Questo significa che per portare un contributo nel ruolo tipicamente uno o due anni, cioè veramente io dopo un anno e mezzo o due posso dire ho fatto quello che mi viene chiesto, ho imparato, conosco il ruolo, so quello che sto facendo e ho avuto anche la possibilità di dare un contributo nel ruolo. Per cui direi che mediamente a livello tempistica dovete considerare salutari diciamo un healthy come cambio ogni due anni, però il punto principale a monte è se con il quando mi stai chiedendo qual è il trigger per decidere di cambiare lavoro, allora lì è una delle tue priorità. Per cui attenzione a quello, no? C'è proprio fatevi la domanda ma perché voglio cambiare lavoro? È sulle varie dimensioni, voglio guadagnare di più, è necessario cambiare lavoro, posso fare altro. Voglio fare esperienza lavorativa diversa, devo cambiare azienda, devo cambiare lavoro o posso fare qualcosa di diverso all'interno del mio lavoro o all'interno dell'azienda? Voglio fare un'esperienza di vita all'estero, mi può spostare l'azienda, posso fare qualcosa io per i fatti miei, oppure situazioni di famiglia particolari che implicano per me delle scelte magari di spostarmi, di avvicinamento temporaneo o a medio lungo termine alcuni punti, insomma ci possono essere tanti motivi. Però appunto è fondamentale questa analisi a monte prima di decidere il cosa fare, quindi perché fare qualcosa, cosa fare e come farlo. Questo se vogliamo sono le tre fasi, no? Anche dell'analisi, dell'assessment, poi della definizione della strategia e poi della definizione dell'implementazione più tattica dei vari passaggi per raggiungere l'obiettivo. Savero chiede, quanto costa l'età ne colloqui in aziende top tipo MBB? Nel caso in cui non si riesca ad accedere all'università target dopo la triennale potrebbe aver senso prendersi un gap year maturando esperienza lavorativa tipo una big four per poi riprovare l'anno successivo l'ingresso in università top? Oppure credi che la velocità in una pubblica valga di più? Se il tuo obiettivo è un'azienda che ha università target, cosa significa università target? Le McKinsey, le grandi aziende di consulenza o aziende del settore finanziario di un certo tipo assumono soltanto da un numero ristretto o prevalentemente quasi esclusivamente da un numero ristretto di università, quindi queste sono le università target, cioè proprio le università per le quali addirittura loro hanno dei recruiter dedicati, dei team che si occupano di seguire quella realtà e quindi vengono definite università target per queste aziende. È spiegato molto bene all'interno dei video nel canale di Andrea Zanon e Marco Lecchi, vi consiglio di far riferimento perché sono molto molto interessanti. Ora analizza un attimo alla situazione, tu dici io voglio andare là e quindi punto all'università target, se non entro nell'università che faccio? Prendo un anno in cui inizio a lavorare e poi ci riprovo l'anno successivo? Allora attenzione perché se state parlando di aziende top che hanno una finestra operativa di selezione estremamente ristretta probabilmente ci sono dei paletti su determinate cose per cui l'anno in più pesa perché nel momento in cui io posso scegliere il top secondo certi criteri non solo prendo il gente dalla Bocconi ma la prendo per esempio ma la prendo laureata col massimo dei voti e la prendo laureata alla Bocconi col massimo dei voti in corso no? Proprio perché su mille studenti ne assumo 30 da qua, 20 da là e 20 da là. Ora non conosco i numeri ma seguite il concetto cioè se proprio una posizione di lavoro all'interno di un ente governativo che richiede soltanto quel tipo di laurea con quel tipo di voto in quel tipo di... là o rientri in quei parametri o non ci rientri, è quasi binaria la cosa. In questo caso bisogna fare attenzione perché lato lavorativo sicuramente un'esperienza ha sempre senso poi dipende anche dal tipo di carriera che vuoi fare. Il discorso di fare triennale lavorare e poi eventualmente continuare con la magistrale successivamente ha molto senso per tantissime carriere soprattutto all'estero è una cosa che fanno in molti. Se hai un obiettivo specifico per queste aziende, se è che queste aziende assumono soltanto con magistrale lì, allora lì potrebbe essere controproducente. Però ti consiglio di approfondire specificatamente perché è un aspetto molto delicato cioè più è piccola la finestra all'interno della quale loro fanno le loro selezioni minore è il tuo spazio di manovra per diciamo soluzioni creative e punti diversi di attacco per quel tuo obiettivo. Però ripeto cerca di capire perché queste grandi aziende hanno anche eventi e comunque è molto è molto noto i loro criteri di recruitment, passaggi e tutto quindi sicuramente puoi trovare molto informazioni a riguardo. Ok? Però sì domanda molto delicata Saverio perché sicuramente il soprattutto se si hanno le idee chiare sulla carriera e molto specifiche sull'obiettivo azienda lavoro e tutto automaticamente questo ti riduce i gradi di libertà per per le scelte e le altre attività. Cambiare lavoro, cambiare settore lavorativo è uno degli argomenti di cui abbiamo parlato in questi giorni nel gruppo Telegram ed è una cosa molto delicata e molto importante. Ci sono molto spesso nella carriera o nella vita delle persone dei momenti dei career crossroad richiamerebbe Adrian Ciò, poi parliamo un attimo di questo libro anche. Cioè comunque ci sono dei momenti in cui per x motivi si decide di fare delle scelte importanti che possono risultare anche in nuovi indirizzi di carriera, passaggi di un certo tipo. Ora che succede? Che a seconda della distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo le considerazioni da fare sul quanto sia realistico un passaggio, come strutturare gli step e come organizzare tutto quanto cambiano molto. Cambiano in base alla distanza tra i due punti se vogliamo, cambia in base alla mia situazione a livello di seniority, di competenza, di anche di capacità di costruire uno storytelling e cambia anche in base all'ambiente. Cioè se sono in una nazione con un mondo lavorativo estremamente statico, con un certo tipo di mindset, poca predisposizione per i cambi e molta per vivere e lavorare in un certo modo da un estremo all'altro, questo ovviamente influisce perché le condizioni al contorno sono fondamentali per una cosa del genere. E qui la pianificazione è molto importante perché fa parte esattamente di quel discorso di cui parlavamo prima, cioè nello specifico se stiamo parlando di una persona che si è occupata fino adesso di un certo settore però lavorando si è resa conto che un altro settore è più stimolante o comunque vuole sperimentare, mettersi alla prova ed ampliare la propria esperienza rispetto alle dimensioni di cui abbiamo parlato prima, no? La dimensione puramente salariale, la dimensione tipologia di lavoro, la dimensione identità professionale, poi quella familiare o personale, diciamo in questo caso il trigger è rispetto alla mia parte professionale quindi voglio fare quel tipo di salto. Ora lì dobbiamo fare un'analisi molto attenta della nostra posizione e della nostra situazione perché i passaggi si possono fare migliorando alla pari o facendo un passo indietro ovviamente in tutte le dimensioni. Allora perché voglio fare quel quel salto? Questo soltanto l'interessato conosce la vera risposta qual è il vero trigger. Magari io sono in un ruolo tecnico, ho lavorato moltissimo con i miei colleghi di marketing perché dovevo supportare determinate campagne, mi ha appassionato moltissimo quel settore e allora mi piacerebbe tanto esplorare. Prima cosa consiglio sempre di verificare se è vero che è così figo quel mondo perché è molto facile che quando si ha a che fare con altre divisioni magari si vede soltanto la parte più superficiale, la parte un po' più luccicante e ci perdiamo le battaglie, la parte competitiva, la parte meno sana o interessante del dell'altro lavoro. Però partendo dal presupposto che io ho chiare le idee e voglio trasferirmi lì, a quel punto devo fare un assessment molto chiaro e molto realista di quello che posso portare. Cioè dobbiamo ragionare rispetto a quella che è la nostra situazione, quindi le mie competenze, il mio bagaglio di esperienza, quello che può essere il mio fit rispetto alla nuova posizione e però dobbiamo ragionare per poter preparare una buona strategia e una buona tattica anche lato azienda dall'altro lato. Cioè è facile dire ah ma questi non sono pronti a mettersi in discussione e prendere una persona per, il caso mi sembra fosse, il marketing mettermi alla prova. Ok ma se tu fossi un'azienda e avessi bisogno di un uomo marketing quali sarebbero i motivi per cui invece di prendere uno che viene dal marketing dovresti prendere uno che viene dal da un settore diverso? Non vuol dire che non accade però devi veramente pensare alla storia, al come strutturare, al cosa evidenziare o eventualmente se necessario anche a dei passaggi intermedi così invece di fare il salto a b, cioè a uno, a due, a tre, ti avvicini, ci giri attorno e in qualche maniera punti ad arrivare a quel ruolo. Per cui mettetevi sempre nei panni anche di chi dall'altra parte sta facendo la selezione, deve prendere delle decisioni. Non siate troppo pessimisti o tranchante nel dire ah no ma vedono che faccio questo mi scartano a monte tutto, cioè comunque dall'altro dato avete persone, non aziende, persone che stanno facendo un lavoro seguendo delle direttive delle governance create da altre persone all'interno dell'azienda. L'azienda non è un oggetto, non esiste, l'azienda ti fa quello, esistono persone che seguono istruzioni dal loro manager, che seguono istruzioni date dalle strategie definite da altre persone che devono seguire altre cose. Per cui io selezionatore che posso essere esterno all'azienda o che posso essere interno all'azienda nella divisione HR o che posso essere direttamente interno all'azienda nella divisione competente, cosa devo vedere per considerare un candidato di un'estrazione, di un background differente? Questo dovete lavorarci a seconda del singolo caso e ovviamente fare in modo che sia molto evidente il vostro valore. Ricordatevi, quando faccio le consulenze parliamo spesso del come mi devo presentare e vedi spesso le persone hanno un curriculum o comunque una descrizione, a me piace l'idea di sono interessato a questo perché mi piace questo. Tanto piacere, cioè non è quello il messaggio che bisogna dare, il messaggio che bisogna dare è il valore che io posso portare è questo, perché io non ti devo assumere in base, io azienda non devo, io azienda, io recruiter ci siamo capiti no? Io hiring manager devo risolvere un problema dell'azienda, devo creare un valore in quella divisione, non devo accontentare le tue aspirazioni di carriera, per cui anche nella narrativa, nel come ci si pone bisogna essere un attimo attenti a fare questo e quindi se il passo è veramente così complicato probabilmente dovete o rivedere tutta quanta l'impostazione o considerare passi indietro perché magari se io c'ho già una seniority di cinque anni in un settore ingegneristico ma mi piace proprio dall'altro lato opposto il marketing e voglio andare al marketing molto probabilmente dovrò accettare di mettermi in competizione col neolaureato, faccio un esempio, in economia con zero esperienza sul campo ma solo sulla carta, solo accademica e allora magari la mia esperienza sul campo, la mia conoscenza del mondo corporate o di quello che è, può essere una carta che mi posso giocare a mio favore. Un'altra soluzione se siete in un'azienda strutturata che lo permette è cercare il più possibile di lavorare vicino alla divisione target, cioè cercare di essere coinvolti in progetti formalmente o informalmente all'interno del vostro development plan mettere qualche cosa che abbia a che fare con quel settore, magari fare anche della formazione a vostre spese che sia però formazione vera, non vado a laurearmi in quel settore, cioè proprio executive education oppure qualcosa nelle scuole, quelle serie che possa darvi veramente un network, un mindset delle skill in più. Non è facile, punto, cioè già spostarsi, già cambiare lavoro non è facile di default. Se poi in particolare siete particolarmente schillati in qualcosa che è anche molto ricercata è ovvio che il mercato farà riferimento a voi perché avete la fortuna di essere nel momento giusto, nella zona giusta. Se volete fare invece questo tipo di stretching dovete fare una serie di passaggi e di considerazioni. Per cui state molto attenti a creare un pacchetto che sia lo storytelling, la parte documentale, la parte esperienza, anche la preparazione del terreno che tenga conto di tutti questi passaggi. Non è assolutamente facile, però se per le dimensioni fondamentali di cui parlavamo prima è una cosa per voi importante, allora sicuramente merita l'investimento e il potenziale sacrificio se si deve fare uno spostamento laterale, quindi stesse signori, te stesso coso o addirittura indietro se ci si deve mettere in discussione molto. Ok? Ho vissuto in Svizzera otto anni, sono tornato a Roma nel novembre 2021, sono stato otto anni di cui, no, otto anni è qualcosa, di cui sei mesi a Lugano e il resto a Basilea nella Svizzera tedesca e ho fatto anche un video in cui ho raccontato come si vive specificatamente a Basilea, poi vi metterò il link, città meravigliosa che ho amato tantissimo. Riesci ancora a ritagliarti sessioni di deep work durante la giornata lavorativa? Se sì, come le gestisci? Togliendo mail e chat aziendali e il tuo ruolo attuale non te lo permette? O il tuo ruolo attuale non te lo permette? Allora, gestire la giornata lavorativa è complicata in assoluto. Verissimo, si viene sommersi da mail, riunioni. Ora, il deep work può avvenire in vari modi. Quando si è, mi verrebbe da considerare che quando si è all'inizio, il deep work è individuale, cioè anche a seconda del tipo di ruolo, no? Se io sto sviluppando un codice perché sono nella parte IT o se sto facendo un qualcosa di specifico tipo tecnicamente lavorare su un programma di manutenzione, molto probabilmente il deep work richiede me a fondo in una parte. Andando avanti, la maggior parte delle attività lavorative, soprattutto quelle più importanti e più complesse non sono individuali o è meglio che non lo siano. Per cui il deep work deve avvenire in gruppo, cioè veramente devo avere il gruppo di due, tre persone che ci si vede e in due ore di lavoro online, in remoto, si tira fuori tantissimo, si prendono decisioni, si scrivono documenti, si preparano presentazioni e via dicendo. Però alla fine è un fatto di bloccare degli slot, dire di no a certe cose, capire quali sono le mail importanti e le chat importanti a cui rispondere subito e quali invece possono essere messe in stand by. Ci sono tantissimi strumenti, la matrice, quello che è importante, quello che è urgente, non urgente. Quelli sono tecnicismi. A livello di mindset, secondo me è importante accettare il fatto che abbiamo risorse limitate a livello di energia-tempo, capire che molto probabilmente non muore nessuno se si risponde a una mail in serata o domani, a meno che non sia una mail di un certo tipo. E bisogna avere la capacità di veramente creare la... dare la giusta priorità agli eventi, per cui so che mail e chat da questo gruppo di persone ti metti warning, ti metti qualunque segnale all'interno dei sistemi. Per il resto ti ritagli di slot all'interno del calendario in cui una cosa tipica è c'è un momento in cui devi analizzare dei dati e devi preparare una presentazione per gli executive o un executive report dove veramente devi stare attento, organizzare, allora sì, l'unica cosa che puoi fare è disattivare le notifiche e stare lì, però anche lì secondo me prima hai il check esterno con altri colleghi, meglio è per evitare di farti 10 ore di lavoro verticale su qualcosa e poi no, va corretta, quindi ricordatevi che il 90% del lavoro è un lavoro di team in ogni caso. Non è facile però anche là a seconda dei momenti, dei ruoli e tutto. Il discorso del capire a quali riunioni è necessario partecipare, a quali si può anche dire di no per le quali ci si può giustificare dicendo ragazzi fatemi sapere se o magari contattate le persone dicendo è necessario che io partecipi o è soltanto un fatto di allineamento, su quello bisogna essere un po' brutali e capire quando è il caso di e quando si può dire tranquillamente no. Però ovviamente più si è junior più si tende a dover far tutto, voler essere ovunque e via dicendo. Crescendo, pick your battles no? Cioè veramente individua quello che devi fare e via dicendo. Però il deep work ha questo doppio aspetto, non è necessariamente soltanto individuale e poi sì, ti devi un attimo gestire. A me fasi di veramente full focus ci sono sempre però molto meno da quando mi concentro sul fare check con altre persone il più presto possibile. Andrea dice se non è laureato in economia, non ho ancora chiaro il percorso che vorrei fare in futuro, da quale lavoro settore a reinizieresti se fossi al posto mio. Andrea io ho fatto un video secondo me può essere interessante come punto di partenza. Allora prima dovresti un attimo ricordarti perché hai studiato economia, un po' di challenge no? Perché hai scelto economia, cosa avevi in mente? Poi se proprio non hai idea, questo può dipendere da due tre motivi. Uno non hai idea di cosa vuoi fare, due non hai idea di che cosa c'è là fuori. Su entrambe queste parti si deve lavorare. Non avendo idea di nulla probabilmente io inizierei a dedicare moltissimo tempo a fare ricerche e devi darti un punto di partenza. Ho fatto un video in cui facevo vedere per esempio come utilizzare chat GPT, non per le cazzate del hackerare il sistema, fare 300 milioni al giorno e via dicendo, ma quali sono i migliori percorsi di carriera all'interno di questa nazione con questa laurea. non è la risposta che devi ottenere da chat GPT, ma è un punto di partenza, no? Ti farà un elenco di lavori, quali tipi di aziende posso usare come aziende target per questo discorso e ti dà un albero di informazioni sulle quali puoi approfondire. Poi ovviamente Andrea è importantissimo avere anche un network, quindi tu hai colleghi, qualche centinaio di colleghi dell'università ce l'hai sicuramente, essere in contatto con loro, essere su LinkedIn, vedere che tipo di scelte fanno, informarti, guardare attorno. Ci sono tantissimi video di persone, in particolare per economia, citavo prima i canali di Andrea Zanon e Marco Lecchi che sono bravissimi, danno tantissime informazioni sugli sbocchi e sulle opportunità per le carriere nel mondo dell'economia. Un'altra cosa che consiglio per capire un attimo il mondo del lavoro è capire le aziende. Prendete qualche azienda grossa e capite quali sono i suoi settori. Una delle cose fondamentali per il mondo del lavoro è che i punti d'ingresso in azienda sono tantissimi e non fanno scopa uno a uno con il titolo di studio, no? Io non è che sono ingegnere e posso entrare soltanto nella divisione engineering di una azienda, posso anche entrare in qualunque altra divisione che non richieda proprio una cosa specifica se quella è una cosa che mi appassiona. Ovvio che magari all'inizio dovrò mettermi in discussione per determinato tipo di competenze, però ci sono tantissimi settori per i quali non c'è un titolo di studi dedicato. Io faccio spesso l'esempio di procurement e dal lato opposto a procurement c'è la divisione vendita. Cioè queste non sono cose per le quali c'è la laurea che ti prepara per entrare in procurement, così come non c'è la laurea che ti prepara per la divisione vendita o il business development o via dicendo, no? Per cui cerca di capire il mondo del lavoro, cerca di seguire persone, studiare profili. LinkedIn è una risorsa incredibile. Puoi anche fare una cosa del tipo, parto dal titolo di studi, lo metto come keyword nelle ricerche, vedo il tipo di lavori che vengono fuori o il tipo di aziende e inizio a fare i miei studi. Una cosa fondamentale è ricollegarsi a quello che dicevamo prima. La carriera, il cercare lavoro, queste fasi importantissime devono essere fatte con un'analisi a tutto tondo. Cioè è inutile che mi metto a considerare un settore specifico lavorativo se poi nelle altre dimensioni ho dei constraints o delle cose che devo in assoluto considerare, no? Cioè se non parlo inglese il mondo internazionale corporate è escluso. Priorità assoluta imparare l'inglese immediatamente e ad alto livello. Se per motivi di famiglia non mi posso spostare, la situazione geografica che devo considerare è diversa, a meno che non decido per un lavoro di un certo tipo in remoto. Se ho dei principi, degli ideali, delle cose che mi appassionano per cui non voglio lavorare per certi settori o voglio lavorare specificatamente per altri settori, devo tenerne conto e questo crea una mappa di possibili ruoli e tipologie di aziende su cui muoversi. Se parti proprio dal non conosco nulla del mercato devi proprio informare e studiare tanto. Se il punto invece è non so quello che piace a me, molto probabilmente studiando il mercato, studiando i ruoli e studiando tutto il resto inizierai a trovare qualcosa che ti fa scattare un minimo di interesse. E di nuovo ricordati perché ti sei iscritto a economia. Quali sono state le cose che hai studiato che ti hanno maggiormente appassionato, che tipo di progetti hai fatto per i quali ti trovavi gasato, che ti galvanizzavano e tutto, oppure le cose che proprio, mamma mia, quando studiavo la parte di fiscalità internazionale mi sono dovuto tappare il naso perché l'ho odiata, ok, automaticamente sai già un'area alla quale non avvicinarti. Quindi sono queste due cose, studiare all'esterno il mondo del lavoro e studiare noi stessi, capire che cosa ci può interessare e cosa no. Ti reputi un leader? Secondo Marchionne un vero leader alla fine è solo. Lui deve prendere le decisioni, soprattutto quelle difficili. Sei d'accordo con questa visione? Allora, ovviamente Marchionne stiamo parlando di una persona veramente notevole, sia come personaggio che come ruoli e sfide che ha dovuto affrontare e che ha rappresentato. Se guardate ci sono delle interviste, degli interventi anzi di Marchionne in vari congressi che sono meravigliose. Ricordo ancora quello in cui parlava del suo ingresso ad agosto, non mi ricordo quale divisione dell'azienda, diceva ma dove sono tutti quanti? Sono in ferie. E lei diceva ma questa azienda sta perdendo 40 milioni al giorno in lire? Diceva ma in ferie da cosa, no? Cioè era bellissima come sintesi e come approccio. Ora, Marchionne tra l'altro era in posizione letteralmente apicale e queste sono persone che lavorano su cose diverse rispetto alle quali lavoriamo noi. Cioè noi lavoriamo, quando parlo di noi parlo di quelli non nel board, no? Quando sei a inizio carriera sei nell'operatività e lavori nel quotidiano mensile annuale. Quando sei più avanti nella carriera lavori, diciamo sul quinquennale, ipersemplifico, no? E quando sei in una fase un po' più senior strategica, veramente devi ragionare su delle dinamiche che ti vengono messe davanti, delle problematiche che tengono necessariamente conto di programmi pluriannali e tutto quanto. Quando parliamo di queste persone, il CEO della multi, questa è gente che ha il cervello che, cioè, mentre noi risolviamo il budget e prepariamo i contratti quinquennali, questi stanno già disegnando come sarà l'azienda tra vent'anni. Non sono solo gli start-upari, i visionari. Cioè questa è gente che pensa a come sarà neanche l'azienda, a come sarà il business, quel tipo di business tra vent'anni. E quindi lì sicuramente c'è una componente di solitudine importante, proprio perché a un certo punto devi veramente decidere in che direzione andare e ti viene ovviamente data l'autorità per farle, non è che tu ti alzi e decidi che. Il discorso della solitudine, allora a mio avviso c'è molto il discorso della responsabilità. Difficilmente nelle grandi aziende, soprattutto, non considero le aziende di famiglia, patronali, quelle piccoline, strutturate con dinamiche molto sull'individuo, difficilmente le soluzioni sono veramente decisioni che io decido che è questo punto. Perché più è strutturata l'azienda, più è grande, tanto più c'è un collaborare, interferire, intersecarsi di più divisioni. Cioè io non è che all'interno di procurement posso, ah basta, questo è quello che io decido per i contratti. No, perché ho il business che mi deve chiedere o dire se quello va bene, cioè il mercato che mi deve rispondere in una certa maniera, c'è finance che mi deve dare la disponibilità, c'è strategi che mi deve dire dove dobbiamo andare, cioè è molto difficile che sia solo l'individuo. Anche l'individuo a capo di una divisione importante che fa grandi trasformazioni, e io ho visto delle persone veramente in gamba affrontare una radicale trasformazione di divisioni grosse con migliaia di persone in giro per il mondo, lì diciamo la solitudine al leadership sta nel fatto di avere in mente dove si vuole arrivare, ma non è mai un io decido e si va là. La difficoltà lì è io ho una visione che non tutti vedono e devo fare in modo che inizino a vederla anche gli altri, che ci sia una fase di preparazione e condivisione in maniera tale che a un certo punto ci sia un allineamento, perché non è che tu puoi andare a io ho deciso di andare là e l'azienda non lo sa o sta dietro, non vai da nessuna parte con questo meccanismo. Io sono un leader, dipende da come lo definisci, io sono un ottimo manager, un pessimo sottoposto sotto alcuni aspetti, nel senso che io mi assumo molto la responsabilità di quello che ovviamente succede, quello che decido, e in particolare faccio in maniera tale come tutti, non tutti quelli nella mia posizione lo fanno, la responsabilità di se qualcosa va male deve ricadere su di me, non può cadere sulle persone che stanno sotto. Cioè il manager barra leader si deve prendere i proiettili. Cioè ci sono dei momenti in cui ti capita di dire alle persone, ok questo è chiaro, ora me la vedo io, non è vostro lavoro partecipare a determinate riunioni, a delle cose brutte o prendersi la cascata di problemi, perché quello è il tuo compito, sia portare bottom up i risultati, le cose che vanno bene, che prenderti nel caso le conseguenze delle cose che vanno male. Quella per me è la cosa fondamentale della leadership, i discorsi di quelli che si rubano il merito di quello che è, no, quella è proprio una delle cose peggiori, purtroppo ancora presente, molto a che fare con la cultura dell'azienda, però è una delle cose su cui stare molto attenti. Per cui per me la leadership è, al di là del fatto di ispirare, andare, secondo me è molto legata anche all'affidabilità, c'è la gente deve sapere che non racconti storie, che ci sei quando serve, che non ci sei quando non ci devi essere, perché sennò diventi un bottleneck, ma soprattutto che quando c'è un problema ti prendi i proiettili per primo, perché è il tuo lavoro, se stai più su c'è un motivo, no? E non è sempre il motivo divertente, ok. Esco da un progetto lungo e complesso in cui avevo trovato la mia dimensione, ora nel nuovo progetto, con un nuovo manager, mi sento di aver perso confidenza e autonomia. Allora, questo può essere interessante, perché pensi di aver perso confidenza? Cioè il progetto è diverso, è il nuovo manager che ti fa sentire più insicuro? Usalo per imparare, usalo per imparare su di te, capire cos'è che non sta funzionando, quello può essere un buon esercizio, perché se sei nella stessa azienda, se la tipologia di progetto è potenzialmente simile, allora se stiamo parlando di diverso stile di management che ti mette più a disagio, è un'ottima opportunità per imparare a convivere anche con gli stili diversi di management. Se è un fatto che l'argomento è diverso e non ti senti confidente a livello di competenze specifiche, ok, ci sta, va benissimo, cioè crescere lavorativamente è scomodo, è faticoso, è difficile e fa paura, per cui va bene, sei nella direzione giusta, cioè a meno che non vuoi mettere i timbri alla che cozzalone, sarai costantemente davanti a dei challenge e se questa mancanza di confident è dovuta al fatto che sono cambiati gli stakeholders o devi lavorare su cose su cui ti senti più insicuro o devi interagire con persone magari a livello più alto, qualunque sia il motivo, però usalo come opportunità per crescere perché probabilmente anche nel progetto precedente il giorno zero non eri tutto scoppiettante ma poi hai trovato la tua strada. Possono esserci vari motivi, ora non so in particolare qual è il problema specifico, però usalo per crescere, usalo proprio come se fosse un esercizio scomodo per imparare qualcosa di più. Voi siete giovani ma tanti anni fa c'è stato un film, uno dei film dell'epopea di Star Trek, il test della Kobayashi Maru. Per chi non lo conoscesse è un test all'interno dell'accademia degli ufficiali della flotta stellare, è un test che non ha una via d'uscita, cioè è un test dove si fallisce punto. Al di là poi della storia di Kirk Spock, se siete appassionati sapete di che parlo, se non lo siete potete andare a spulciare perché è divertente, però il punto fondamentale qual è? Il test non è uscire dall'impasse con le navi Klingon dall'attacco e via discorrendo, il test è vedere come il cadetto affronta la sconfitta e la situazione senza uscita. Durante la vostra carriera avrete molti eventi di Kobayashi Maru perché le cose non vanno sempre bene ragazzi, i progetti vanno a gambe all'aria, i budget vengono sforati, gli obiettivi non si raggiungono, ci sono eventi improvvisi di mercato, di impianti, di... spesso le cose vanno male perché nota bene, al lavoro siamo nel mondo reale e la vita reale è fatto anche di questo, in quel caso l'unica cosa che potete fare è imparare a gestire, a reagire e a crescere emotivamente perché queste cose succederanno periodicamente. Ci sono dei momenti in cui qualunque cosa tu faccia, per quanto logica, per quanto... cioè non se ne esce, perché ci sono tantissime cose complicate e allora lì io cito spesso il test della Kobayashi Maru. Ecco, potenzialmente Ringo Starkiller questo progetto, ora non è il caso perché non me l'hai presentato come un disastro, però entra in quell'ottica della Kobayashi Maru. Impara anche a gestire cose che per x motivo sono al di fuori dalla dimensione nella quale ti stavi trovando meglio. Poi, ripeto, sono veramente tantissimi i motivi per cui una cosa può starci stretta o stridere o non essere nelle nostre corde. Domenico chiede come gestisco work-life balance e la gestione della routine lavorativa. Io sono in una situazione anche particolare perché io da un anno e mezzo lavoro da casa, quindi sono passato da un campus con più di 10.000 persone, sono tornato in Italia e ora lavoro full remote. Ovviamente pro e contro, il discorso del farsi inghiottire cambia in vari momenti della propria vita. Da un lato tu hai, da giovane devi fare tante cose, tantissima energia, non sai come farle, quindi ci metti tantissimo, ma non sei necessariamente efficiente o efficace. Quando si va avanti con la signora e ti impari tantissime cose, le sfide sono molto più grandi, tanto più grandi, molto più complicate, molto più stressanti, però sei anche più schillato, sai anche come muoverti meglio, per cui è molto più efficace ogni tuo attività, ogni tuo sforzo. Personalmente io ho due fasi della vita che si alternano, quando ho mia figlia e quando non ho mia figlia. Allora, quando mia figlia è con me, al di fuori della parte lavorativa, non mi faccio assolutamente coinvolgere perché ho mia figlia e quindi quella è la cosa più importante della mia vita e tutte le mie energie sono lì. Per fare questo, quando mia figlia non è con me, mi concedo molto più stretching, se vogliamo, della parte energia mentale dedicata al lavoro. Poi c'è anche tanto un fatto di esperienza, per esempio mi concedo molto brevi passeggiate, quando ci sono buchi tra le riunioni, mi faccio anche proprio nel calendario degli slot anche solo di 30 minuti per uscire, faccio la passeggiata col cane, l'aria fresca aiuta tantissimo a staccare. Molta attenzione perché il fatto di lavorare da casa non ti dà lo stacco, tu vai in ufficio, torni a casa, vai in pausa pranzo, chiaramente hai degli stacchi. Quando sei a casa è un attimo più facile essere coinvolto H24 su determinate dinamiche, su quello sì, bisogna darsi un attimo dei tempi particolari. Diciamo che personalmente con l'esperienza, anche con quello che dicevamo prima, del dare la priorità giusta e considerare cosa è importante e non solo quello che è urgente, ho trovato un equilibrio che è compatibile con me. Cambia anche nelle fasi della vita, il mio modo di lavorare, l'energia e il tempo di oggi non ha niente a che fare con quello di 15 anni fa o anche solo 10 anni fa, per cui io faccio questo, mi metto piccole pause, ci sono i giorni quando appunto ho una chiara delimitazione perché so che al di fuori della parte lavorativa c'è mia figlia e quindi sono su quello. Il resto fa parte ragazzi, lo stress c'è, la stanchezza c'è, la sovrapposizione c'è, i manuali del come si fa la vita perfetta si incastra, ma vabbè per me lasciano il tempo che trovano. Però secondo me ognuno si costruisce la sua operatività, la sua quotidianità, soprattutto è importante capire a monte quello che è importante per voi, no? Perché la parte lavoro è chiaramente definita, queste sono le ore, queste sono i blocchi delle riunioni e tutto. Al di fuori di questo assicuratevi di dedicare tutto il tempo e le energie per le cose che sono veramente importanti per voi e ignorare le cose che non sono importanti per voi e per la nostra vita, perché altrimenti vi sentite persi o sentite di aver perso tempo di energia in cose non importanti, quindi è frustrante perché quando esco dalla parte obbligo sono in una parte che non mi realizza e quello è un circolo vizioso, pericoloso. Domenico chiede, sono un ingegnere laureato al Politecnico di Bari, ovviamente che io adoro, e lavoro in Research and Development in una multinazionale. Come faccio a migliorare le mie skill trasversali? Chiedendo attività di mentoring o figure di altri ripartimenti? Allora, prima cosa spero a Domenico che hai fatto il test di autovalutazione che ho messo nei tutti quanti i link ai miei video, io ho fatto queste scorecards per studenti universitari e per professionisti per fare un autoassessment su varie dimensioni, leadership, strategia di carriera, comunicazione, conoscenze dell'azienda e via dicendo. Le soft skills o comunque le competenze trasversali sono una cosa importantissima soprattutto per chi ha una radice e una formazione tecnica, perché spesso si tende ad andare molto in verticale e poco in orizzontale. Quello che ti consiglio di fare è guardarti attorno e collaborare con i colleghi, cioè alcune competenze proprio sono, che ne so, public speaking, puoi fare leggere libri, fare corsi online, seguire i Toastmasters, quell'associazione che si occupa del public speaking, però quello che consiglio molto è training on the job, cioè far riferimento a persone che comunicano bene, presentazioni fatte bene, meeting ai quali partecipi, dice porca miseria, è chiarissimo l'obiettivo, guarda come vengono gestiti, stakeholders management e via dicendo. Quindi alcune cose sono di formazione un po' più formale, se vogliamo. Per le altre, se c'è un mentoring o dei programmi di sviluppo e training in azienda, falli, fate tutto il training che potete ottenere, è molto facile ottenere quello interno, quello esterno magari è più difficile se ci sono limiti di budget e via dicendo. Però consiglio fortemente sempre di collaborare con le altre divisioni, appunto, nello specifico hai fatto riferimento alla divisione quality, alla divisione procurement, compliance, health and safety, cerca di lavorare con loro, fare network, parlare con queste persone, vedere che tipologia di problemi affrontano, come li affrontano e più capisci come interagiscono le varie divisioni dell'azienda, più facilmente capisci che tipo di capacità vengono usate in ognuna di loro e nelle interazioni. Quindi guarda il lavoro di persone che stimi e che secondo te si muovono bene. C'è sicuramente quello che alle riunioni è un animale da palcoscenico che è bravissimo a gestire le situazioni, ci sono sicuramente persone che vedi che gestiscono bene, se ci sono delle situazioni complicate, se ci sono dei pushback, i rifiuti e tutto quanto. E soprattutto chiedi... ora il mentoring potrebbe essere presente o meno in azienda, potrebbe essere strutturato o meno, ma anche chiedere semplicemente alle persone ti fa crescere tantissimo, cioè devi fare una presentazione in qualcosa? Vai da qualcuno che è e mi dai un check? Addirittura noi usiamo spesso... c'era un'abitudine del mio ex 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 capo e mi diceva Maurizio prepara questo e poi dai la presentazione in pasto a una persona che non ne capisce niente, cioè proprio una che non ha mai lavorato su questa cosa e non è neanche del settore, perché ti deve dare un feedback non sui numeri sono giusti, ma si capisce quello che stai dicendo, perché se io come tecnico immerso nel settore questa parte di impianti o questa parte di investimenti scrivo qualcosa, il 70% delle cose le do per scontate e magari mi trovo a dover fare questa presentazione dagli stakeholders che non sono tecnici e non capiranno tanto. Allora in quel caso appunto un trucchetto è prepara questa presentazione, prima lavora insieme a qualcuno che stimi nel come fa le presentazioni, fatti dare consigli, chiedi domanda tantissimo e poi fai un test del tipo prendi una persona da un'altra divisione e dici ma tu qua lo legge, si vede il flusso delle informazioni, è chiaro cosa dico, è chiaro cosa chiedo, questo tipo di cose. Lavorare accanto alle altre persone aiuta tantissimo a farti dire di che cosa si occupano, chiedere di vedere delle presentazioni sui progetti che stanno seguendo e anche chiedere feedback perché una cosa è farsi aiutare a crescere in qualcosa e l'altro capire in che cosa abbiamo bisogno di crescere e quali sono le skill su cui lavorare. Però ottimo che ti stai ponendo il problema. I tecnici hanno spesso un approccio incredibilmente coi paraocchi alla carriera. Ho fatto diverse live in cui ho parlato della carriera da generalista rispetto alla carriera da specialista, no? E mi rendo conto dalle reazioni, dai commenti quanto noi tecnici, perché da ingegnere mi metto anch'io nella categoria, molto facilmente tendiamo ad avere un posizionamento difensivo a riguardo. In particolare avevo caricato su TikTok un video, un estratto in cui spiegavo che il capo di ingegneria non fa l'ingegnere, cioè un po' una provocazione ma qual è il concetto che ribadisco? E se voi prendete una divisione di ingegneria appunto in una multinazionale, in una grande azienda, gli ingegneri vanno là e devono dimensionare qualcosa, risolvere un problema tecnico, disegnare un pezzo. Poi c'è il supervisore del team, poi c'è il capo del... e ovviamente più sei senior più sei specializzato e via dicendo, ma quando si arriva alla posizione manageriale, quella dirigenziale, la persona che si occupa di coordinare tutto, non fa un lavoro tecnico, cioè non è che non so disegnare questa valvola, arrivo al mio capo team, non lo sa fare, va al capo unità, non lo sa fare, va là e arriva. Cioè il grande capo della divisione di ingegneria è una persona che si deve occupare di strategia, in che direzione dobbiamo andare, quante risorse abbiamo a disposizione, come allocare le risorse nei vari progetti, come dare la priorità ai progetti, combattere per il budget, gestire che alcuni progetti stanno andando male, altri meglio, quindi riallocare le risorse, capire in che direzione vuole andare l'azienda, dare il contributo alla parte strategica, non si mette con il regolo o con AutoCAD a dimensionare le cose. Ecco, questo messaggio che è di un'obvietà totale per chi ha un po' di esperienza nelle grandi aziende e soprattutto per chi come me magari ha fatto un po' di carriera, ha fatto scaturire tantissimi commenti molto interessanti, in particolare la parte proprio, lo zoccolo duro dell'animo ingegneristico che ti dice, e sì, certo, perché questi, un commento soprattutto molto interessante, diceva perché questa è tutta gente che vuole soltanto far carriera per parlare di chiacchiere e gestire il potere, perché la contrapposizione è io tecnico lavoro, tu manager sei un quacquaraquà che parla di nulla e hai solo piacere a gestire il potere, no? Questa contrapposizione è meravigliosa. E in un altro caso avevo detto quanto aiuta, soprattutto per chi è tecnico, capire la parte non tecnica del business, quindi se avete la possibilità mettete mano a un contratto, chiedete di vedere un contratto, perché così vedete la governance, come si misurano le performance, come vengono descritti i servizi, quali sono tutti gli escalation point, la comunicazione, che dà veramente una rappresentazione del flusso di attività all'interno del business, che è una grandissima opportunità di crescita soprattutto per il tecnico e anche lì commenti del tipo, ah vabbè ma allora perché non viene quello di procurement a farsi spiegare da noi la cosa tecnica? Cioè in quel caso sì, verissimo, per uno di procurement farsi spiegare un aspetto tecnico è sicuramente importante, ma io sto dicendo a te tecnico, guarda che puoi migliorare, puoi crescere acquisendo queste skill e la risposta è l'ego, no? Io tecnico vengo gratificato spiegando agli altri le cose, no? Quindi in un caso stai acquisendo competenze, entri tu rispondi no, io invece consiglio questa cosa dove semplicemente soddisfo il mio ego perché spiego a un altro quanto è figo il lavoro che faccio io. Ecco questo ho riassunto decine di commenti che ho dovuto gestire perché la parte proprio, il mindset tecnico verticale a volte è molto difficile da, non dico scalfire, ma da mettere veramente in discussione e questo a mio avviso è uno dei più grossi problemi per noi tecnici. Il vedere soltanto la verticalità della specializzazione e il perdere l'opportunità di capire tutto quello che c'è alla nostra destra, alla nostra sinistra a livello di business. Mi ha fatto veramente sorridere perché io sono passato attraverso queste fasi, io ho avuto la fortuna di iniziare una carriera da ingegnere ma nell'ufficio acquisti, però anch'io ho scalpitato a un certo punto, dopo due anni ho detto no, no, ma io devo farlo ingegnere, quindi mi sono fatto spostare a maintenance engineering ed ero contento di stare lì con la tutina negli impianti, la parte manutentiva e via dicendo, però appunto quanto è radicato nei tecnici il discorso del noi siamo noi e tutto il resto è fuffa perché noi siamo quelli che facciamo le cose concrete. Mi piaceva condividerlo perché è veramente uno spunto di riflessione sul discorso del come vogliamo crescere, che tipo di opportunità ci vogliamo dare per la nostra carriera perché le opportunità dobbiamo coglierle, dobbiamo essere aperti per coglierle, per individuarle, per crearle e via dicendo. E questa situazione è proprio classica di contrapposizione tecnici, non tecnici e spesso danneggia più i tecnici di altro, anche perché il tecnico trova lavoro molto più facilmente, è innegabile, come ingegnere è molto più facile, è una delle facoltà con le quali più facilmente si trova lavoro, si inizia carriera, si hanno tantissime opportunità, però poi il fare un salto o avere una carriera di un certo tipo richiede un mettere in discussione alcune priorità e alcuni meccanismi, quindi è bello riflettere sulla community di persone a cui appartengo. Allora, allora, Domenico tu dici in teoria il capo di ingegneria è una figura che ha fatto il tecnico per tanti anni e poi è salito, oggi invece il capo di ingegneria a volte è solo un gestionale e spesso non conosce i tempi tecnici. Ecco, questo è il problema, credere che sia solo un gestionale, è un gestionale e i tempi tecnici li conosce o perché li conosce direttamente o perché c'è la sua prima linea. L'amministratore delegato di una casa farmaceutica non necessariamente conosce l'ultimo processo di produzione dei farmaci. Per questo ci sono le prime linee, le seconde linee, le terze linee, cioè il manager non deve conoscere le cose, deve gestirle, manage, no? Il dirigente deve dare una direzione e le sue parti tecniche, le parti che stanno sotto si devono occupare di dare queste informazioni. Io come capo di ingegneria devo sapere che il mio direct report della parte tecnica, della parte impianti, della parte maintenance, della parte idraulica, della parte elettrica mi daranno tutte le informazioni giuste per decidere, eh, ma va benissimo se vengo da quel mondo, ma va benissimo anche se non vengo da quel mondo partendo dal presupposto che se sto lì non è perché ho trovato il bigliettino da visita nel pacchetto delle patatine. E il fatto che questa persona abbia fatto un percorso diverso dal mio non significa che le manchi qualcosa, perché probabilmente a me manca altrettanto. Cioè è proprio questo, Domenico, la contrapposizione. È solo il manager, è solo manager. Vai a farti tu una riunione di manager dove si parla di strategia e di gestione delle risorse? Sai dove ce le mettiamo le nostre capacità di fare grafici delle correnti polari o la stabilità di Liapunov? Io me ne sono fatte entrambe le situazioni e ti assicuro che è molto più semplice dimensionare un pezzo e fare una parte tecnica che è dover gestire stakeholders, figure apicali con personalità alfa o dover combattere contro delle esigenze di business a livello strategico, allocazione di risorse e via dicendo. Solo gestionale, ma perché Marchionne sapeva costruire le macchine? No, non mi sembra che fosse tutta sta grande incapacità. Pensate esattamente a quello. Non è che Marchionne era solo un gestionale. Direi di no, è proprio quello il punto su cui bisogna mettersi in discussione. Ciao Giuppi, viva i tecnici! Sì, viva i tecnici, assolutamente. per la parte tecnica, viva i gestionali per la parte gestionale, viva i comunicatori per la parte comunicazione e poi tutti gli spostamenti di gruppo e via dicendo. Ripeto, io sono proprio ingegnere elettrotecnico, però l'80%, no, di più ormai, il 90% della mia carriera l'ho fatta al di fuori dell'ambito puramente tecnico. E dopo 20 anni, quello che ho studiato nel 95 a macchine elettriche, ragazzi, ma come può oggi influenzare veramente il mio lavoro, la mia esperienza e via dicendo. Per cui questo è esattamente quel challenge di cui parlavo prima, no? Vedere la complementarietà delle parti. Cioè, proprio perché io sono un ottimo tecnico, mi assicuro di dare le informazioni giuste a chi sopra di me deve fare la parte gestionale, perché se lo riempio di dati inutili divento semplicemente un sovraccarico di informazioni. Invece devo dare quelle poche informazioni utili che permetteranno a chi ha la funzione gestionale di gestire la parte, le parti tecniche che gestisce, e io tecnico che mi occupo del dimensionamento del bobine o del layout per l'impianto e tutto, non mi sono dovuto preoccupare di combattere per il budget, non mi sono dovuto preoccupare di combattere per i contratti di chi verrà a lavorare negli impianti, non mi sono dovuto, perché qualcun altro grazie al cielo mi ha coperto negli altri settori. È tutto collegato, cioè prima si esce dalla parte logica di silos, io questo, io questo, io questo, e soprattutto, anzi, è bene quando uno vede silos così, il problema è che la gente li vede così, no? Io sono tecnico e sotto è. E questo poi fa partire molti meccanismi interessanti nelle aziende. Vedi, Mr. Larry, che il discorso Marchionne, laureato in giurisprudenza e filosofia, ha sviluppato la propria carriera negli Stati Uniti, sì, ma il principio fondamentale è voi vi laureate a 22-23 anni dopo 5 anni passati sui libri. Come potete pensare che 35 anni di esperienza lavorativa potranno essere soltanto un'estensione di 5 anni di teoremi? È follia, cioè non può essere. Nel mondo lavorativo imparerete 120 volte la quantità di informazioni che avete imparato nei banchi dell'università. Per cui, se volete continuare ad accumulare le informazioni nello stesso settore, va benissimo, diventate specialisti. Ma se volete accumulare le informazioni negli altri settori, fate i generalisti, dove il generalista non è quello che non capisce niente di tutto. È uno che capisce tantissimo di tanto, così come lo specialista è quello che capisce tantissimo di determinate parti più difficili e più specializzate. Ma vi ripeto, se dopo 20 anni di lavoro le cose che sapete sono quelle dell'università, avete un problema, ma avete un problema serio se in 20 anni non avete imparato altro e avete semplicemente applicato le cose dell'università. A meno che non vogliate essere proprio quello che esce da ingegneria elettrotecnica specializzata in macchine elettriche e per 30 anni fa la macchina elettrica sempre al meglio del meglio del meglio, la nuova tecnologia e continua a fare quello, continua a fare quello, carriera assolutamente verticale. Ma non ha niente in più di quello che è uscito da ingegneria, inizia a studiare i contratti, inizia a studiare la gestione, inizia a studiare il budget, inizia a studiare quello. Tutti e due hanno aggiunto 30 moduli, uno in un settore, uno in tre settori diversi, ma sono entrambi professionisti di alto livello che hanno fatto un percorso di crescita. Ripeto, io oggi a 51 anni, a 25 anni dalla laurea, ma come faccio a definirmi ingegnere? Sì, ho una laurea in ingegneria, ma quello che faccio io oggi è tutt'altro che il lavoro dell'ingegnere, ok? E vi assicuro che questo è un argomento che fa imbupalire i miei colleghi. Cosa fare quando hai molteplici interessi e hai studiato una magistrale abbastanza ampia come business analysis? Scegli quella che è la tua strada, quella mappatura di cui parlavamo prima. Cioè, disegnare la propria strategia di carriera vuol dire proprio trovare il match tra i miei interessi, le opportunità e un'idea che ho del mio futuro. Questo è un lavoro molto complicato e molto importante che va fatto. Il giovane Holden, Salinger, bene, così faccio pure le citazioni colte, diceva tu devi andare a scuola e devi studiare geografia, matematica, storia, filosofia, letteratura, perché studiando più cose capisci di che misura è la tua mente. Credo fosse più o meno questa la citazione. È lo stesso lì, cioè tu hai fatto business analysis, ok, a questo punto rispetto a tutti i settori nei quali questo può essere applicato, trova quello che ti è più consono, quello che ti incuriosisce di più, quello che ha più opportunità, quello che ha più, che ha stipendi migliori, o quello che è all'interno della nazione che ti appartiene di più, all'interno della quale vuoi vivere, no? E questa è la parte di definizione della carriera e la strategia, cioè per me è importante dove vivo, fondamentale, che lavoro faccio, vicino a chi mi trovo, che stipendio ho. Una volta che decido questo mappo quelle che sono le mie opportunità e poi creo una tattica e un'operatività per andare lì. Per cui se io ho studiato business analysis e sono appassionato, per me la cosa più figa del mondo è il Giappone, inizio a fare un'analisi per, fatto salvo le altre dimensioni che non ho, i genitori anziani a cui devo fare assistenza, ecco tutto, inizio a lavorare per andare in Giappone vedendo quello che è. Però questa opportunità di aver studiato un qualcosa che viene applicato in diversi settori è una grandissima opportunità perché significa che puoi decidere in base agli altri pilastri dove andare a parare. Domenico dice, alla fine la RAL dei tecnici è sempre più bassa dei gestionali. Scherzo, so che io non sarei in grado di gestire progetti enormi purtroppo. Allora, non è la RAL dei tecnici più bassa quella dei gestionali, è che i ruoli più alti hanno RAL più alte e non esistono ruoli più alti tecnici. Cioè, o sei un tecnico con delle competenze particolari, saldatore subacqueo, credo che prendi 15-20 mila euro al mese, non mi ricordo più, ma stiamo parlando di queste cifre. No, allora sei il super specialista in qualcosa di estremamente difficile e rischioso. Ma il problema è che, appunto, proprio per quello che ho detto prima, cioè, gestire significa avere sotto responsabilità, risorse e team e quello automaticamente richiede un salario più alto a parità di condizioni del contorno. Oppure vai a fare il tecnico in Svizzera e ti pagheranno molto di più del tecnico in Italia, però automaticamente il gestionale in Svizzera guadagnerà più di te. No? Sempre il discorso delle dimensioni che consideriamo. Però è esattamente quello, ma tecnicamente tu vedi questa cosa, Domenico, perché sei nel settore tecnico, ma lo stesso sarebbe se tu fossi nel settore economico. Cioè, chi fa la contabilità viene pagato poco, chi gestisce i contratti o la parte strategica di finance viene pagato di più. Certo, perché il director di finance non sta a controllare i numeri, ma controlla che tutti gli aggregati nei report aziendali messi tutti insieme e sotto ha le prime linee che garantiscono che quei numeri sono corretti e lui si occupa di far sì che quei numeri abbiano il fit giusto nella strategia, con tutti i challenge e discorrendo. E quindi anche in quel settore il gestionale è pagato di più. Vendite, il diciamo il rematore, quello che va a fare le vendite porta a porta o qualunque sia il modo di fare vendite, è pagato molto meno del capo gestionale vendite che non va in giro a fare le vendite, ma gestisce team che fanno vendite. È esattamente quello il concetto di fare carriera e questo è correttissimo quello che dici, ma si applica a tutte quante le categorie di lavoro proprio perché la parte gestionale richiede delle skill diverse dalla parte operativa, complementari alcune volte, per cui ovvio che non devi, cioè tu non è che una grande illusione di chi fa gestionale, è che tu esci, cioè usciamo io ingegnere elettrotecnico, tu ingegnere gestionale e ai colloqui uno va, ah tu sei elettrotecnico, allora ti metti a fare la manutenzione, ah tu hai studiato gestionale, allora questa è la posizione da manager, ma quando mai? Cioè ma non esiste, comunque devi fare la tua carriera gavetta e via dicendo, per cui tranquilli è un fatto di veramente quando acquisisci competenze, quando ti esponi, quando sei in condizioni di poter gestire, automaticamente passi appunto, Domenico, quando potrai gestire progetti non necessariamente enormi, ci sono gli step intermedi, inizierai se vorrai avvicinarti a quel tipo di carriera, c'è tantissima gente che invece non vuole, è così soddisfatta e contenta del lavoro tecnico che è felicissima di continuare a lavorare per 30 anni nella parte tecnica e va benissimo, però è chiaro che nel bene e nel male perdi, acquisisci delle competenze che magari ti rendono quasi insostituibile, però perdi delle altre competenze che ti renderebbero più fluido se fossi interessato o interessata a spostamenti di carriera. È sempre un fatto di scelta e di definire la propria strategia di carriera in base ai propri obiettivi generali, no? Prossimamente dovrei andare a gestire un team nella stessa azienda. Che letture e indicazioni di massima puoi darmi? Ottima domanda. Una delle sfide che si affronta da manager è quella di iniziare a gestire persone. Io dico sempre che quando inizia ad avere Direct Reports è come se fosse il giorno 1 del lavoro, cioè tu puoi avere anche 10 anni di esperienza lavorativa, il giorno in cui hai dei Direct Reports devi usare e sviluppare un set di competenze completamente diverso, on top delle altre. Un libro che ti consiglio di leggere, lo trovi nel link sotto i miei video dove ci sono i consigli di lettura, è quello di David Watkins, La tua prossima mossa, dove si parla specificatamente delle sfide del manager, quindi c'è la sfida di iniziare a gestire un team, la sfida del cambiare azienda, la sfida del cambiare nazione, la sfida del diventare il capo dei propri ex colleghi. È un libro molto bello, molto interessante su come affrontare determinate cose e sono due libri di Watkins che io cito sempre. i primi 90 giorni e poi c'è la tua prossima mossa. Ovviamente i link che metto sotto sono link affiliati di Amazon, quindi a me arriva la percentuale dalla vendita, però sono veramente libri che consiglio. Vi ricordo che Michael Watkins insegna all'IMD, la Business School di Lausanna, per cui complimenti per l'opportunità e sono degli ottimi punti di partenza. Poi comunque ci sono anche alcuni video in cui abbiamo parlato di questa cosa della gestione. Ricordati che ovviamente un punto è che stai gestendo persone che sono professionisti mediamente autonomi, quindi evitare il micromanagement, permettere alle persone di fare il loro lavoro e per come la vedo io il manager ha un ruolo molto specifico, permettere alle persone di fare il loro lavoro. Ci sono i manager che credono di essere nei film degli anni 80, questa idiozia, no, del i miei sottoposti sono il mio strumento. No, per me è il contrario, sono io il loro strumento, cioè è il mio compito togliere gli ostacoli, dargli le risorse e prendermi i proiettili quando ci sono da prendere i proiettili. Questo per me è un punto fondamentale nella gestione delle risorse. Ok, quindi quella è veramente un'ottima lettura, te lo consiglio. Allora, vi ricordo che ci sono queste scorecard che ho preparato per studenti universitari e per professionisti, trovate il link sotto nel video, dove rispondendo a una trentina di domande ricevete comunque un feedback su quella che è la vostra situazione attuale e dei consigli su come migliorare alcune dimensioni della carriera. Io sono anche disponibile per consulenze per chi ha delle cose importanti da fare, lato lavoro, ricerca lavoro o organizzazione della carriera e anche lì ci sono i link. Prossimamente ci saranno probabilmente dei cambiamenti perché sto riorganizzando il sito, spostando su una piattaforma nuova, quindi ci sarà una riorganizzazione anche della parte community e sto anche lavorando per produrre nei prossimi mesi, più che settimane, un paio almeno di videocorsi per poter in qualche modo mettere i contenuti principali, i passaggi principali che si affrontano quando si fa un percorso di consulenze di carriera, di career coaching in maniera tale che ci sia la possibilità anche di farlo in maniera un attimo autonoma. Ci sto lavorando perché è molto complicato mettere insieme tutta questa parte, però penso sarà molto utile per chi vuole appunto affrontare questa parte. Grazie a tutti quanti, ci sentiamo la prossima volta, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e aggiungete ai commenti se ci sono dei punti che volete discutere, metteteli sotto nei commenti così poi ne teniamo traccia per le prossime chiacchierate. Ciao, grazie ancora e buona serata!